Zotti, siamo in fine di chiusura della campagna elettorale, qual è stata l'esperienza con i cittadini di Monfalcone? Siamo in chiusura, anche oggi al mercato ho incontrato tanta gente, ho potuto parlare con loro, ho sentito molte opinioni positive che mi hanno rassicurato e che sostengono la Cisint e anche me spero.